Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Tra tre giorni muori per la radioattività Incidente mortale alla Profiglass spunta una nuova verità Interrogati due testimoni oculari Buonasera cari telespettatori di Fanno TV Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Iniziamo parlando di un episodio che sette anni fa Sicuramente ha scosso la coscienza di tante persone Ed è ancora molto vivo nella mente di diverse persone L'incendio al pesce azzurro Ieri ci sono state le condanne in tribunale a Pesaro Però ripercorriamo tutta la vicenda 15 giugno del 2010 Una data che i fanesi difficilmente non scorderanno Alle 055 della notte tra il 14 e il 15 di giugno Appunto uno dei luoghi simboli di Fanno Il ristorante self service pesce azzurro va a fuoco Andando quasi completamente distrutto E causando danni alla Comar Pesca Che lo gestisce per oltre 500 mila euro E di fatto condannandolo alla chiusura per diversi mesi Le indagini sul rogo condotte dai carabinieri di Fanno Hanno da subito imboccato la strada dell'atto doloso Per via del ritrovamento di una tannica di benzina Nelle vicinanze dell'incendio E gli inquirenti seguono decisi questa pista Dopo quattro anni di indagine fra mandanti ed esecutori materiali Vengono denunciate dai carabinieri sette persone Nell'ambito della ristorazione locale Ieri la sentenza di primo grado Che porta oltre alla soluzione di piccoli La condanna altresì di Giuseppe del Carmine E la moglie Simonetta Fabri Sette anni a lui e quattro a lei Vincenzo Mastro Donato L'intermediario Sette anni e mezzo E di due esecutori materiali dell'incendio I fratelli Giulio e Francesco Povia Sei anni al primo e quattro al secondo Come avevano chiesto di fatto i PM Nel frattempo però il pesce azzurro è risorto Come la Fenice dalle sue ceneri Aprendo già ad agosto del 2010 Dopo pochi mesi dall'incendio Subito nuovamente al pubblico Per poi diventare ciò che è adesso E con quattro filiali aperte Tra Romagna e Marche La strada per arrivare sin qui è stata lunga Per il pesce azzurro Ma lunghi sono stati anche questi anni D'attesa per l'imprenditore Giovanni Piccoli Che insomma per l'accusa Era uno dei finanziatori Dell'attentato Finanziatore che invece Non così non era Perché è stato assolto Con formula piena Assolto per non aver commesso il fatto Con queste parole Ieri pomeriggio Dopo un'ora di Camera di Consiglio Il giudice Paolo De Luca Con una soluzione piena Ha scaccionato Giovanni Piccoli Dal ruolo di finanziatore Del piano per incendiare il pesce azzurro E per il quale i PM Avevano chiesto quattro anni e mezzo Di reclusione L'imprenditore fanese Tirato in balo nell'inchiesta Perché socio dei due ristoratori Considerati i mandanti Ha atteso con fiducia In aula che il giudice Uscisse con la sentenza Fiducioso che la verità Venisse a galla Una vicenda lunga E logorante Per lui e la sua famiglia Oggi ho finito Diciamo con L'adrenalina Della sentenza di ieri Quindi sono molto Ancora molto più sereno Di quello che è stato Ecco Non è mai semplice Una cosa del genere Poi accade Su una persona Che Dai Ama tanto la sua città Di conseguenza Se hai tirato in bala In una situazione Di cui non conosci All'inizio neanche Di cosa si parli Ti ritrovi In difficoltà Però grazie alla famiglia E grazie agli amici Che devo dire Bisogna prendere anche il buono Anche dalle cose negative Uno riscopre Tante amicizie Ti allontani Le persone Che magari Si approfittavano Stavano vicino Per qualche interesse Ti ritrovi Ecco Ho trovato Una grandissima persona Il mio avvocato Un professionista Che Al di là Della sentenza Però Ha trovato sempre Le parole giuste Ecco Con la sensibilità Che Che ci vuole Perché Sono stati anche Momenti difficili Ecco adesso Il tuo percorso La tua vita Prende La strada Che deve prendere Ma Non è che mi ha cambiato Chissà che cosa Però Io ho fatto sempre Un ragionamento Perché si viene Sbattuti sul giornale E Poteva succedere Di tutto Quindi uno Dici tre anni dopo Vieni assolto Però potevi perdere La famiglia Potevi perdere il lavoro E sono tutte cose Che poi non è facile Riavere Per quello Dico sempre Mi sono modificato Anche io Ero molto Diciamo Prima Mi lasciavo perdere Giudizi Anche Dati Dal Dal pensiero Emotivo Del momento Adesso Sono molto più Misurato Perché ho capito Veramente le difficoltà Che si possono incontrare Nella vita Adesso parliamo Di una vicenda Che Adesso è stata Tanta preoccupazione Ieri Al pronto soccorso Dell'ospedale Santa Croce Di Fano Perché Un signore Un individuo È entrato Dicendo di essere stato Appunto Con una siringa Contenente del liquido Verde E che temeva Per la sua incolumità Sentiamo che cosa è successo Un attimo Alle 12 e 17 di ieri Irrompe al pronto soccorso Di Fano Luca De Carlo Un imprenditore pesarese In preda al panico Avvertendo il triage Ho paura di morire Mi hanno iniettato Una sostanza radioattiva Queste parole Mandano in stress operativo Tutto il personale Del pronto soccorso Che subito Attua le procedure In caso di pericolo Di contaminazione Di fatto Bloccando Tutta l'attività Del pronto soccorso Per seguire I protocolli operativi Gestiti dal direttore Giancarlo Titolo Ed i suoi collaboratori Il nostro compito È isolare il paziente E cercare Quanto meno contatti Abbia Con il resto Dei pazienti Presenti In pronto soccorso Ovviamente L'attività del pronto soccorso Si è bloccata Perché di fatto Noi non siamo stati Allertati da nessuno Il paziente Si è presentato alla porta Quindi Questa cosa qua Ci ha messo Tra virgolette Sotto stress Insomma Ha stressato L'organizzazione Molto E quindi Abbiamo dovuto bloccare Insomma Tutto quanto il pronto soccorso Per pochino di tempo Insomma L'uomo Un restauratore Di autodeboca Poi spiegherà Che un suo cliente Irlandese Col quale si era incontrato Gli si è avvicinato Con una siringa E dopo avergli iniettato Un liquido verde Ha proclamato la sentenza O mi paghi O morirai Entro tre giorni Per la radioattività Il tutto Per ritardi Nella consegna Di una Citroen DS Una prova Dell'apparato D'emergenza Che ha funzionato A dovere Come rassicura Il direttore sanitario Del Santa Croce Attivando Tutte le unità Competenti Come quella Dei vigi del fuoco Dell'unità speciale Di Ancona Che gestisce Gli allarmi BNC La macchina Ha funzionato Quindi questo È anche un test Brutto Diciamo Da identificarle In questa maniera Però il sistema Ha funzionato E quindi Alla fine Tutto è rientrato Adesso ci sono Gli accertamenti Che la polizia giudiziaria Sta facendo In merito All'accaduto Fortunatamente La sostanza Era vitamina B Come hanno evidenziato Le analisi Della siringa Ritrovata poi Dai carabinieri In collaborazione Con i tecnici Dell'Asiet In un cassonetto A Lido di Fano Teatro dell'aggressione Dove si erano incontrati Il meccanico restauratore E il cliente irlandese Ora il malcapitato È ancora in osservazione La stanza isolata Del pronto soccorso Ma l'assalitore Invece È stato denunciato A piede libero Dai carabinieri di Fano Ed ora occupiamoci Della vicenda Della profiglass Di quell'infortunio Mortale Sul lavoro Che costato la vita A un 49enne Di Fano Ci sono Nuovi indizi Per capire Che cosa È successo Realmente Sentiamo Per far luce Sulle cause Che hanno portato Alla morte Dell'operaio 49enne Della profiglass Rodolfo Cangiotti Mentre operava All'interno dell'azienda Con un muletto La procura Della Repubblica Di Pesaro Ha aperto Un fascicolo Contro i gnoti Per omicidio colposo Quello che non Convince Gli inquirenti È la dinamica Emersa dalle prime Indagini Secondo la quale Cangiotti Avrebbe commesso Un'imprudenza Nel vorrei sistemare Il bancale Di lana di roccia Che si era sbilanciato Da solo E da sotto Cosa che Data l'esperienza Dell'operaio Con oltre 25 anni Di lavoro Desta qualche Perplessità Possibile Che un operaio Così esperto Commetta una simile Imprudenza Ignorando Le più basilari Regole del suo lavoro O è accaduto Qualcosa di imprevisto Non di peso Dalla condotta Di Cangiotti Per dar risposta A questi interrogativi Sono stati sentiti Dal PM Valeria Cigliola Titolare delle indagini Due opedai rumeni Che operavano Anche loro A bordo di muletti E che erano presenti Sulla scena Dell'incidente Nel preciso momento In cui Rodolfo Cangiotti Veniva investito Dal bancale Nei prossimi giorni Si dovrebbe anche Compire l'esame autoptico Sulla salma di Cangiotti E poterla così Consegnare E dare nella disponibilità Della famiglia Per disporne i funerali Che non sono stati Ancora decisi L'azienda Intanto ha annunciato Che rimarrà chiusa Il giorno dei funerali In segno di vicinanza Alla famiglia E rimaniamo sulla cronaca Un incidente stradale Questa mattina Si è verificato In viale primo maggio Poco prima Delle 11.50 Subito dopo La rotonda D'Arsena In direzione Pesaro Sono stati coinvolti Tre veicoli E a scaturire La carambola Sarebbe stata Una Y10 Guidata da una giovane Di 26 anni Residente a Saltara Che per cause Ancora in fase Di accertamento Ha tamponato un autocarro Fermo al semaforo Guidato da un operaio Fanese Di 42 anni Che a sua volta Per l'ulto È stato sbalzato in avanti Urtando il paraurti Di un altro mezzo Fermo al semaforo Alla cui guida Si trovava Un pesarese Di 64 anni Sul posto La pattuglia Dell'infortunistica Della polizia locale Di Fano Per i rilievi Di legge Ma nessun intervento Si è reso necessario Da parte di sanitari Dato che nessun occupante I mezzi Ha riportato Conseguenze fisiche E si chiama Pace in nome di Dio Ed il nuovo libro Del vaticanista Fanese Paolo Fucili Per la prima volta Nella storia Ci siamo riuniti Da ogni parte Chiese cristiane E comunità ecclesiali E religioni mondiali In questo luogo sacro Dedicato a San Francesco Per testimoniare Davanti al mondo Ciascuno Secondo la propria convinzione La qualità Trascendente Della pace Era il 27 ottobre 1986 Papa Wojtyla Convoca ad Assisi I leader di tutte le religioni Del mondo Per una giornata mondiale Di preghiera Per la pace A 30 anni Da quella geniale intuizione Di Giovanni Paolo II Il vaticanista Paolo Fucili 46 anni Originario di Fano Ha deciso di scrivere Un libro Dal titolo Pace in nome di Dio Edito dalla casa editrice Cetau Fucili lo ha presentato Anche a Fano Di fronte ad un pubblico Attento e preparato Nella sala Della Mediateca Montanari Nessuna guerra è possibile In nome di Dio E lo spirito di Assisi È ancora vivo Oggi Nei cuori di tante persone E ci ricorda Uno degli aspetti Più importanti Attuali E cioè Che la pace È un dono di Dio E nel suo nome Nel nome di una religione Non si può mai Fare la guerra Nessuna religione È più autorizzata A fare la guerra In nome di Dio Questo è stato detto Chiaramente Trent'anni fa Un messaggio Che è stato ancora rinnovato Purtroppo È un messaggio È una frase Che è stata Ancora smentita In anni recenti Abbiamo parlato Ad esempio Della guerra Nella ex Jugoslavia Combattuta anche Sulla base Di contrapposizioni religiose La tentazione Sarebbe quella Di dire Ma a cosa è servito Tutto questo A cosa è servito Incontrarsi A cosa è servito Assisi E mi viene da rispondere Con un'altra domanda E se non ci fosse Stata Assisi Forse le cose Sarebbero andate meglio Chi può dirlo Pace in nome di Dio Si può acquistare Nelle librerie Anche online 97 pagine Al costo di 10 euro Bene Ed ora Cambiamo decisamente Argomento Vi mostriamo Una immagine Che ci hanno mandato Gli amici Delle vongolai Vedete qui C'è praticamente Un isolotto Che si è creato Nella darsena Dove appunto Ormeggiano I pescherecci E come dicevano Proprio loro Ci si potrebbe piantare Un ombrellone E una sdraio Per Per protestare Per questa situazione Per il perdurare Dei fanghi Nella zona del porto E all'ingresso Che domani Domani venerdì Alle ore 8 Le barche operanti A vongole Rientreranno in porto E suoneranno Le sirene Si fermeranno All'imboccatura Appunto del porto Per protestare Contro il mancato Dragaggio Del porto Di Fano Questo A questa Manifestazione In questa azione Di protesta Aderiscono Il gruppo Pesca Fano E l'associazione Vongolai Che daranno Anche una breve Conferenza stampa Proprio sul posto E domattina Vi faremo vedere Di che cosa Si è parlato Proprio in concomitanza Di questo incontro Con gli operatorittici Della città Di Fano E questo fine settimana Andiamo nella Patria del biologico Dove è nato Il tutto Negli anni 70 Isola del Piano Perché è lì Che ogni anno Si tiene Bio Europa Quest'anno La versione Del 2017 Allora Un appuntamento Annuale Per il mondo Biologico Nella patria Dove è nato Il biologico italiano Certo Diciamo che Il Bio Europa Rappresenta Un evento nazionale Già da quando è stato Diciamo promosso Per i primi anni Diciamo che In questi ultimi anni In un contesto di crescita Molto importante Per l'agricoltura biologica L'Alleanza delle Cooperative Italiane Ha riconosciuto Come questo evento Possa diventare L'evento nazionale Rivolto a tutta la cooperazione Che è impegnata In agricoltura biologica Quindi sicuramente È un riconoscimento Per il lavoro Che le cooperative marchigiane Hanno fatto in questi anni E anche Diciamo Un impegno nuovo Perché significa Diventare anche Degli attori nazionali E quindi Svolgere un ruolo politico Di orientamento Di tutta la politica agricola Che si deve Approcciare anche Il settore dell'agricoltura biologica In maniera appropriata Ecco Le tematiche Di questo appuntamento E poi anche Il premio Farmers Friend Che insomma È una Ciliegina sulla torta Certo Certo Diciamo che Il Bio Europa Si caratterizza in tre momenti Il venerdì pomeriggio Si parlerà più di innovazione E ricerca In agricoltura biologica Per cui potremmo dire Che è rivolto più Ai tecnici O comunque agli operatori Che sono impegnati Nella coltivazione Con metodo biologico Sarà possibile Ascoltare le relazioni Di ricercatori Del Criato di Foggia Del Cermis di Tolentino Così come sarà possibile Anche visitare I campi sperimentali Quindi insomma Un pomeriggio Diciamo Particolamente interessante Poi il sabato mattina Abbiamo il convegno Quindi la parte più politica Si parlerà quindi Di mercato Di politica agricola Ma soprattutto Di quali debbano essere Le strategie Che la cooperazione E gli agricoltori biologici Devono intraprendere Per saper cogliere L'opportunità Della crescita Dell'agricoltura biologica E portare reddittività Nel nostro territorio E appunto Come dicevi tu Tutto si concluderà Con il premio Farmers Friend Che era un premio Istituito da Gino Girolomoni Per riconoscere Quelle personalità Che si erano distinte Per aver difeso I diritti degli agricoltori E quest'anno Il premio Verrà dato Ad un agricoltore africano Del Burkina Faso Che si chiama Yacouba Savadogo È un personaggio Sarà proiettato Anche un film Quindi siete tutti Invitati a partecipare Anche a questo momento Di sabato pomeriggio Bene In chiusura di telegiornale Apriamo la pagina dello sport Della pallavolo In questo caso Le finali nazionali Under 18 Da oggi si entra Nel vivo C'è la Virtus Padrona di casa Fra le 16 squadre Che si batteranno Per il titolo Tricore Di pallavolo Ai finali Di categoria In corso Da martedì Affano In campo Anche i campioni D'Italia In carica Della Lube Civitanova Che oggi pomeriggio Alle 17.30 Nel palasport Di Lucrezia Hanno giocato Contro la pallavolo Saronno Vincendo l'incontro Per 3-0 In calendario Domani invece Venerdì Sempre a Lucrezia Alle 8.45 Lube Contro Volley Modica E alle 17 Giocheranno Contro la squadra Del Modena Per l'ISA Infissi Virtus Fano Invece Appuntamento Alle 10.15 Nella palestra Cianca Merla Calcinelli Contro il Santa Monica Roma E alle 15.30 Giocheranno Contro il Sigma Aversa Bene In bocca al lupo Ai colori Di Fano Che vinca Il migliore In sovrimpressione Nello schermo Vedete il nostro Numero di telefono Al quale potete Inviarci le vostre Segnalazioni Sempre molto preziose Per noi Bene Grazie per averci seguito Sin qui O che la notizia torna Domani sera Puntualmente Alle 20.30 Buona serata a tutti voi